Il volo Ryanair-Trapani-Bordeaux sarà operativo dall'1 giugno, il mercoledì e la domenica. Dopo sette anni lo scalo trapanese tornerà così ad essere collegato con la Francia. Non è l'unica novità in vista della stagione estiva del Vincenzo Florio. Sono state infatti aggiudicate le tratte in continuità territoriale verso Ancona, Perugia e Trieste, lasciate alla compagnia Tai Aranjet. Partiranno da giorno 27 con Albastar, vettore iberico già presente all'aeroporto di Trapani dal 2020 e operativo con i collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, anch'essi in continuità territoriale. L'aerostazione di Trapani-Birgi intanto, dopo l'ultima ristrutturazione del 2007, vuole rifarsi il look con un progetto di riqualificazione. Sono previsti interventi di efficientamento energetico che riguarderanno gli impianti di illuminazione, di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, lavori che garantiranno una diminuzione dei consumi di energia elettrica del 24% all'anno e un taglio netto delle emissioni di CO2.